Sul passo indietro fatto dall'amministrazione comunale di Agrigento in merito all'introduzione della tassa di soggiorno, interviene con una nota anche il Presidente della Camera di Commercio di Agrigento, Vittorio Messina. Nell'esprimere il mio più vivo apprezzamento alla decisione del Sindaco di Agrigento di ritirare la proposta per l'introduzione dell'imposta di soggiorno di Chiara Messina, vorrei invitare tutti i sintaci della provincia ad una più ampia riflessione sulla materia, con particolare riferimento all'area del distretto turistico della Valle dei Templi. Messina, nella nota, critica anche la scelta del legislatore di reintrodurre il tributo vent'anni dopo la sua abolizione. Tale provvedimento per il Presidente della Camera di Commercio di Agrigento è stato adottato senza le dovute analisi dell'impatto negativo che la tassa produce alle imprese del settore turistico. Su fronte Sicilia è la relativa introduzione del tributo da parti di alcuni comuni. Messina tira in ballo l'autonomia della Regione che, non avendo ancora provveduto alla stesura di un'apposita legge, potrebbe portare i sindaci a non adottare la normativa nazionale e quindi non applicare l'imposta. Per il Presidente della Camera di Commercio di Agrigento è importante che i sindaci non utilizzino la tassa per ripianare i bilanci comunali e, qualora l'imposta venga adottata, bisogna che le autorità preposte vigilino sull'effetto uso del relativo gettito che deve essere investito in attività di sviluppo turistico.